I carabinieri della Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca dei beni emesso dalla Tribunale di Roma nei confronti degli eredi di Roberto Musci. Musci venne assassinato, si trattò di un agguato a colpi di pistola il 23 gennaio scorso fuori dall'abitazione dove era gli arresti domiciliari, un complesso residenziale a Casalotti. Lo scorso luglio sempre i carabinieri della Nucleo Investigativo di Roma arrestarono un ritenuto l'autore materiale dell'esecuzione. Il procedimento di prevenzione a carico degli eredi di Musci era stato avviato su proposta del Nucleo Investigativo di Via Inselci che a febbraio 2014 aveva eseguito il sequestro anticipato del patrimonio della vittima. Il procedimento si basa sulla certata pericolosità sociale di Musci e sul fatto che egli sebbene in vita non svolgesse alcuna attività lavorativa in realtà disponeva di beni immobili, mobili e denaro contante del tutto sproporzionati rispetto al reddito percepito e dichiarato, tanto da far ritenere che tali beni costituissero il provento o il reimpiego di attività illecite. La confisca ha colpito la villetta dove Musci era i domiciliari, 57 mila euro in denaro contante, occultati in alcune intercapedine dell'abitazione e vari oggetti preziosi, il tutto per un valore complessivo stimato di circa 500 mila euro.